L'Istituto Professionale Don Orione di Fano presenta due corsi biennali di formazione per ragazzi dai 16 ai 19 anni, completamente gratuiti, al termine dei quali verrà rilasciata una qualifica triennale nazionale in operatore elettrico e operatore meccanico. I corsi prevedono anche uno stage in aziende del territorio. Info e iscrizioni in segreteria